buongiorno aezio galli devo dire nuovo presidente e la fm si scappa da ridere rieletto per la terza volta questo punto presidente dico bene sì questo è il mio terzo mandato penso anche l'ultimo perché mai dire mai dire mai vabbè certo quando uno viene rieletto vuol dire che è stato bravo sicuramente ha fatto il proprio dovere è piaciuto sì e diciamo che in parte se vuoi non c'è una grande corsa c'è stato c'è stato qualcuno che ha proposto di candidarsi poi c'erano dei problemi di statuto che non lo permettevano e quindi di fatto alla fine sono ritrovato solo come come presidente candidato devo dire che dunque è stata una passami il termine campagna elettorale se vogliamo molto vivace perché evidentemente c'è stata molta attenzione da parte un po di tutti gli associati a questa nuova rielezione del nuovo anche il nuovo consiglio ovviamente e devo dire che c'è stata una ottima partecipazione perché ha votato il 70 per cento degli aventi diritto al voto quindi sicuramente c'è stata una partecipazione ottima e quello che mi ha fatto mi ha soddisfatto molto per quanto mi riguarda che io ho ricevuto praticamente il questo 70 per cento sono stato votato da tutti quindi evidentemente la cosa è stata accettata da tutti perché potevano anche votarmi bastava che votasse una sola persona per assurdo che io sarei stato eletto causa po cosa diversa poi se io avrei se io avrei se avrei accettato la l'elezione chiaramente però il fatto che tu hai proposto anche un distinto cioè della tua squadra ma no allora io non ho fatto una proposta perché anche se lo statuto sai che noi a novembre abbiamo fatto delle modifiche allo statuto altrimenti poi oltretutto io non sarei neanche qua perché è senza questa modifica dello statuto che era stata portata avanti da dal povero guido e però accettata poi da tutta la da tutto il consiglio di allora ed è stata portata avanti e l'assemblea poi nell'evento di novembre la accettata è stata votata sta grande maggioranza oltre questa al fatto che abbiamo tolto questa limitazione al presidente all'elezione del presidente con i famosi due mandati adesso l'elezione presidente è completamente libera perché c'è comunque un organo che l'assemblea che decide se è una persona deve essere eletta o meno giustamente c'era c'è anche stata due altre due altre questioni una che l'assemblea deve tener conto un po della pluralità e della rappresentatività del mercato all'interno della squadra che viene composta e la possibilità da parte di chi si candida come presidente di presentare volendo una propria squadra io però di questa cosa non ne sono avvalso diciamo quindi io non ho proposto una squadra infatti ci sono state dieci candidature sui nove posti diciamo o cinque perché diciamo che il consiglio della federazione è composto da cinque a nove persone e e quindi io non ho proposto una squadra poi di fatto sì certo e le persone che sono state elette sono quelle che io in qualche modo caldeggiavo venissero elette lo sono espresso male io adesso dovrete elettere il vicepresidente quindi ci sarà il passo più complicato speriamo che no io credo credo che allora intanto abbiamo fatto richiesta proprio ieri la segreteria siccome abbiamo il primo consiglio il 12 aprile e facciamo un consiglio essendo il primo e dovendo analizzare il mio programma in primo luogo e avendo parecchi argomenti all'ordine del giorno abbiamo deciso di fare un consiglio in presenza quindi poi normalmente come tu sai i consigli della federazione che sono mensili salvo creare eccezioni vengono fatti via via teams questo invece è che è stato fatto è stato richiesta la presenza di tutti infatti ci sarà la presenza dalla quasi totalità forse ne mancherà uno ma per questioni di impegni progressi e in questo consiglio si dovremmo fare l'elezione del vicepresidente ieri la segreteria ha fatto la richiesta ai consiglieri di candidarsi e vediamo chi si candida dopodiché sicuramente si farà se ci saranno più candidati si farà un elezione come si è sempre fatto sentire io l'ho sottolineato anche dopo l'elezione questo questo gruppo che si è formato mi sembra molto ben rappresentativo se banalmente facessimo il conto dei fatturati degli eletti non dico che raggiungeremmo il pieno del fatturato al mondo elettrico però ci andiamo molto vicino sicuramente io sono molto soddisfatto perché c'è un buon equilibrio c'è veramente una rappresentatività molto ampia si va ci sono presenti credo la quasi totalità quasi totalità delle aziende che hanno il peso maggiore sul mercato italiano ma ci sono anche aziende più piccole tipo la mia tipo adesso di con fabrizio borghini quindi sicuramente c'è una rappresentatività che che copre anche regionalmente un po tutta l'italia quello sicuramente è stata una richiesta che io ho fatto ho chiesto e sono stato esaudito da questo punto di vista quindi sicuramente c'è una grossa rappresentatività oggi il consiglio ha un peso molto molto elevato e questo ovviamente serve quando ci si va a sedere sui tavoli a discutere con le nostre controparti e e dar più peso a tutti i progetti che abbiamo in mente di portare avanti da qui per il prossimo triennio se riusciremo a farli tutti poi certo senti intanto dovrete anche indicare il vostro la vostra pattuglia che andrà in medel che dovrà anche esprimere un presidente ci avete già pensato ma allora io 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 ci ho già pensato e mi sono ho provato a cominciato a muovermi in via informale evidentemente quindi il consiglio oggi non ha ancora espresso una sua posizione però il 12 aprile evidentemente dovremmo trovare questa questa persona perché il 21 aprile c'è l'assemblea di metel e quindi in quell'occasione c'è la rielezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente anche se sicuramente in metel ci sono stati dei grossi cambiamenti voluti e qui devo ringraziare ancora il carlo scarlata e giorgio che hanno lavorato molto bene per dare una nuova forma ma forse forma non è corretto ma una nuova sì diciamo forma a metel e l'assemblea del 21 dovrebbe dovrà ratificare questo nuovo a diciamo come scusa diminuisce il numero dei consiglieri ma è allora non è detto cioè io ho fatto questa proposta cioè io io ma d'accordo anche con filippo girardi ci sembrava che metel a questo punto è una società a tutti gli effetti è una società che fa cioè non è un'associazione è una società quindi il nel passato forse abbiamo visto metel più come un'associazione no che 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 una società e quindi proprio come associazione si tendeva ad ampliare molto la presenza dei vari rappresentanti dei soci perché poi alla fine i consiglieri rappresentano fme arame e agne chiaramente oggi che abbiamo dato un taglio decisamente diverso a metel cioè abbiamo collocato metel nella nella sua forma corretta cioè metel è una società è una società che fa business e quindi come tale deve essere gestita e trattata e quindi ritengo che un consiglio così ampio forse non sia necessario per cui mi auguro mi mi aspetto una riduzione dei corsieri di base così lo dico anche apertamente mi aspetto due rappresentanti oltre il presidente ovviamente che è spesso una volta da arame una volta una volta da da fme oltre presidente io mi aspetto due rappresentanti per fme due rappresentanti per agni e un rappresentante di arame ho capito quindi pochi ma buoni e belli concentrati speriamo sento fare il nome di rudy marconi come possibile presidente un dettaglio lo hai detto tu mi sembra un ottima scelta ti ripeto l'hai detto tu infatti io mi sto muovendo un po sotto parmi il termine sotto banco nel senso che sto facendo qualche telefonata rudy sicuramente io non avrei alcuna difficoltà dal mio punto di vista ad accettare come figura rudy come presidente bisogna vedere se poi sta sta bene a tutto il consiglio e soprattutto se lui vuole prendersi questo incarico se dovesse richiesto va bene senti per concludere questa nostra telefonata io nei giorni scorsi casualmente ho incrociato uno dei nuovi corsieri e importante come peso e quello che gli ho fatto i complimenti per l'elezione e e lui ha sottolineato il fatto che la federazione deve fare delle cose essere più protagonista penso che sia un'idea che tu condividi ovviamente allora ti chiedo intanto in queste parole probabilmente c'è una piccola critica al passato sì ecco ti chiedo però che cosa sono secondo te le cose sulle quali ma io ho fatto un programma che è stato distribuito ai soci prima dell'elezione ovviamente perché uno sapesse se eleggo questa persona che che cosa ha intenzione di fare ci sono tante cose sicuramente negli ultimi tre anni l'ultimo mandato soprattutto il primo mandato è stato un mandato un po di riforma di rifondazione chiamiamolo no c'è stato lo stand by dopo la morte di giampaolo e quindi c'è stato un po il il dover rifondare le cose e l'ultimo mandato ci si è concentrati molto sul progetto dello sve che evidentemente ha dato molte soddisfazioni alla federazione perché ha permesso e credo che siamo l'unica associazione ad avere uno strumento che misura il mercato nel miglior modo possibile ed è sempre più diciamo si può sempre migliorare evidentemente quindi su questo progetto ci sarà sempre da lavorare e si andrà avanti con etimi e cose del genere però è vero ci si è concentrati molto su quello non ci ha dato una mano sicuramente la pandemia perché come tu sai per quasi tutto il 2020 e quasi anzi per tutto il 2020 e per quasi e per buona metà del 2021 eh incontri qualcosa si poteva fare quindi sicuramente la 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 quello che vogliamo ritornare a fare è ricollegarci con gli associati quindi coinvolgere maggiormente gli associati per cui di sicuro eh visto che l'anno scorso abbiamo fatto un evento a novembre che ha avuto un ottimo successo eh l'idea è quella che tutti gli anni la federazione rifarà un evento proponendo argomenti temi nuovi e così via e soprattutto poi vogliamo avere la possibilità e qui lo rilancio l'invito ad angaiza vogliamo rivedere se c'è la possibilità di una collaborazione più stretta però questo forse sta più a loro che noi perché questa volontà noi l'abbiamo espressa più volte sono loro che hanno un po' di titubanza su questa su questo argomento però va bene ci 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 stiamo parlando eh vedremo dove andrà a finire e poi sicuramente io quest'anno vorrei tra virgolette viaggiare un po' di più cioè nel senso vorrei incontrare eh più almeno una barra due volte all'anno eh tutti gli associati divisi ovviamente a parte l'evento che ovviamente riunisce tutti quanti eh però vorrei incontrare eh facendo un tavolo al nord un tavolo al centro un tavolo al sud un po' tutti gli associati per veramente mettersi lì eh in totale di avere libertà a discutere dei problemi e e avere suggerimenti dal basso perché effettivamente quello che è mancato in questi ultimi tempi sono i suggerimenti dal basso eh ci piacerebbe anche provare a trovare magari la possibilità di arrivare ai tavoli della politica perché evidentemente l'impianto elettrico è una cosa importante nelle nostre case e fino ad oggi nessuno se ne è mai occupato più di tanto cioè di leggi specifiche su questa cosa ce n'è molto poche ricordiamo l'ultima credo sia la famosa 4690 sul centralino che risale agli anni 90 credo e non si è fatto più niente ma effettivamente Prosiel sta lavorando molto sulla sicurezza della casa e è una cosa che ci piacerebbe venisse portata avanti anche sui tavoli della politica su cui proveremo a muoverci anche in quella direzione ho capito va beh verificheremo la vostra attività mese per mese a questo punto va bene eh credo che la prossima volta commenteremo i dati del primo trimestre sì mi pare che mi pare ma parliamo di così molto sicuramente che sia andato bene anche se non come il 2022 sicuramente le crescite ci sono sono ancora buone ehm ovviamente non ci sono le crescite del 2022 un ruolo che sui dati lo giocherà ancora il fotovoltaico che sta cambiando un po' faccia stiamo passando da un fotovoltaico di tipo residenziale a un fotovoltaico di tipo industriale che quindi è un po' diverso eh quindi eh però è vero i primi due mesi hanno portato a decisamente una riduzione rispetto a una buona crescita ma rispetto a quello che eravamo appituati dal 2021 e parte del 2022 a questi famosi più 30 oggi siamo scesi e oggi abbiamo davanti una cifra che è l'uno non più l'uno neanche il due eh quindi evidentemente però va bene ci sta e va bene va bene così di questo ne parleremo diffusamente la prima volta allora intanto riluogo i miei complimenti a Zio Galli grazie per la terza volta consecutiva grazie e buon lavoro ovviamente perfetto buon lavoro a tutti e avanti così va bene avanti con Galli va bene grazie grazie buona giornata grazie buona giornata a tutti salve